Come ha anticipato Enzo, l'obiettivo adesso di questi anche io dieci minuti impiego insieme a voi è quello di andare in approfondimento su un tema che Enzo ha già toccato, quindi quello dello Human Capital Management. Riprendo velocemente un po' di concetti che Enzo ci ha esposto e poi passiamo un pochino ad approfondire come i comitati di remunerazione e consigli ci si aspetta da alcuni attori di mercato che svolgano un ruolo nell'ambito del monitoraggio e dell'indirizzo dello Human Capital Management e cosa possono fare. Sulla base della premessa fatta che naturalmente i comitati di remunerazione hanno, cioè che l'ownership poi finale delle politiche dello Human Capital sta in capo al management e all'azienda, ma certamente i comitati possono avere un ruolo importante. Fatta la premessa che ormai sembra acclarato e indiscutibile che il tema del capitale umano è un elemento strategico e critico per le aziende. Quindi propongo diciamo tre affermazioni o considerazioni. La prima già accennata, certamente il fatto che i consigli e i comitati di remunerazione conoscano le posizioni e le modalità con cui investitori e proxy valutano e osservano il tema dello Human Capital Management è fondamentale perché possono supportare poi l'azienda nella individuazione, nella gestione di eventuali rischi o eventuali elementi che possono essere percepiti come rischio da parte degli attori che abbiamo citato. Naturalmente qui sono un pochino le domande che anticipava Enzo, però il tema è che è difficile gestire un fenomeno che non si conosce bene o che comunque non si riesce a misurare. Quindi diventa fondamentale la comprensione degli obiettivi che si pongono le politiche di Human Capital Management, la valutazione di quanto questi obiettivi siano coerenti e integrati con la strategia complessiva della società e naturalmente le metiche che poi vengono individuate per valutare e monitorare lo stato di salute e eventualmente l'evoluzione delle politiche di gestione del capitale umano. Automaticamente il legame con il tema dei compensi dei manager viene spontaneo, quindi il fatto di avere nell'ambito dei sistemi di incentivazione dei management degli obiettivi che siano relativi alla gestione del capitale umano è rilevante, è significativo per due ordini di ragioni, ovviamente una pratica che naturalmente quando ci sono degli obiettivi poi è più diciamo probabile, facile che questi vengano perseguiti, ma è anche una cosa importante lato mercato in termini di disclosure, nel senso che avere questo tipo di obiettivi nei sistemi di incentivazione e naturalmente è un'evidenza per il mercato di quanto l'azienda sia committed rispetto a queste tematiche. Fatta questa breve premessa, quello che volevamo raccontarvi sono due cose, quindi andiamo un attimino a guardare quali sono le politiche su questo tema a flash proprio di alcuni investitori e proxy e poi vi proponiamo un po' di evidenze su quanto queste metriche siano inserite nei sistemi di incentivazione di breve o di lungo termine. Non vi è diciamo l'aspettativa di creare un legame automatico o diciamo dedurre automaticamente delle conseguenze, dalle evidenze che vedremo, ma sicuramente stimolare un po' di riflessioni. Quindi sul tema delle politiche degli investitori e dei proxy abbiamo scelto alcune, ne abbiamo scelto alcune, in particolare partiamo da quello che stabilisce e dichiara BlackRock nelle sue investment stewardship in termini di principi generali. Quando BlackRock descrive le ownership che considera in capo al Consiglio di Amministrazione, tra le altre naturalmente individua anche il monitoraggio, l'identificazione e la gestione dei rischi connessi alla governance e ai temi della sostenibilità, ma in particolare sul tema della sostenibilità in una nota esplicita come esempio di elemento legato all'AS degli ESG proprio lo Human Capital Management. Si spinge anche un pochino più avanti e condivide con il mercato un paper di approfondimento su quello che è il suo approccio rispetto al tema dello Human Capital Management, che sostanzialmente ci fornisce tre messaggi, tre grandi messaggi. Il primo è che la valutazione di come l'azienda gestisce il proprio Human Capital è un elemento che viene considerato nella scelta degli investimenti. Questo perché si afferma che nell'esperienza le aziende che hanno delle relazioni solide e forti con i propri stakeholder, quindi anche con i propri dipendenti, sono tendenzialmente le aziende di successo. Laddove peraltro il capitale umano è inteso come tutto quel bagaglio di esperienze, di competenze, di conoscenze afferenti alla popolazione aziendale, questi sono gli elementi che possono fare da booster per l'azienda in termini di capacità di innovazione, sostenibilità di business e quindi è proprio un asset strategico e critico per il successo e per l'implementazione della strategia aziendale. Il secondo messaggio che ci veicola riguarda il fatto che BlackRock si aspetta che i board abbiano un ruolo sul monitoraggio e sulla gestione dei temi dello Human Capital Management e si aspetta anche che, e qui passiamo più al tema della disclosure, si aspetta anche che i board perseguano una politica di disclosure su questi temi che consenta al mercato esterno di poterli correttamente e profondamente valutare. E poi ci dice una terza cosa, quali sono gli elementi dello Human Capital Management che vengono presi in esame, in osservazione. E come primo elemento c'è proprio la verifica che il board effettui un monitoraggio sul tema dello Human Capital, che è un'opportunità naturalmente, ma che può anche essere un dischio. E poi vi sono, diciamo, gli elementi forse un pochino più classici, quindi le politiche della Diversity, Equity e Inclusion, l'engagement, la salute e sicurezza, i programmi di sviluppo. Quindi è evidente che è riconosciuto tutto il tema dello Human Capital Management come un tema critico e strategico che deve essere monitorato anche a livello di consiglio di amministrazione e quindi di comitato di remunerazione. Senza entrare troppo nel dettaglio, ma vi, diciamo, confermiamo che anche i Prox Advisor hanno un'attenzione specifica sul tema dello Human Capital Management o perché vi sono elementi di queste tematiche all'interno delle scorda di valutazione, come ad esempio fa ISS, o perché viene esplicitamente citato, come fa Glass-Lewis, il tema della gestione del capitale umano tra le aree importanti della sostenibilità. Detto questo, abbiamo provato a vedere che cosa succede nelle aziende e quanto queste metriche, quindi a questo punto passiamo all'analisi un pochino di quanto sono presenti le metriche specificatamente relative alla gestione del capitale umano all'interno dei sistemi di incentivazione e anche qua, come ha proposto Renzo all'inizio, abbiamo provato a fare una panoramica un po' di ampio respiro, quindi internazionale. Partiamo dall'America. Allora, abbiamo fatto questo lavoro sulle prime 500 aziende quotate sul mercato statunitense per le più grandi 500 per la capitalizzazione di mercato. Che cosa abbiamo osservato? Allora, prevalentemente le metriche legate allo Human Capital Management che troviamo nei sistemi di incentivazione sono metriche relative ai temi della DNI e con maggior frequenza fanno riferimento al tema della rappresentatività di genere. Successivamente troviamo con una buona frequenza il tema della sicurezza dei dipendenti e del people engagement. Un'altra cosa, un'altra evidenza è che sono più presenti nei piani di incentivazione di breve termine e che raramente hanno una dignità, tra virgolette, di KPI autonomo con un proprio peso all'interno della scheda incentivante, ma più spesso sono utilizzati come correttore del premio, come moltiplicatore. Questo è proprio un flash sul mercato US. Abbiamo fatto la stessa panoramica sul mercato inglese, quindi andando a guardare le prime 350 aziende quotate per market cap. Abbiamo clusterizzato le metriche in quattro, diciamo tutte le metriche ESG, ma adesso qui abbiamo messo in evidenza quelle più strettamente relative al tema dello Human Capital Management, aggregandole in questi quattro cluster. Quindi il tema Human Capital, che copre un pochino in generale tutte le tematiche, tutti i processi, i principali processi di gestione HR, quindi Talent Management, Succession Planning, processi di selezione, processi di retention. Abbiamo isolato poi tutto ciò che è Diversity, Equity e Inclusion, a sé stante di nuovo il tema dell'engagement e poi la sicurezza e health and safety. Allora, che cosa abbiamo visto? Innanzitutto qui c'è una panoramica complessiva di tutti i classi di indicatori che abbiamo visto prima. La prima cosa interessante che, diciamo, si discosta un pochino anche da quello che è il nostro mercato italiano, che poi vedremo, è che in larga prevalenza abbiamo, nel mercato ricordo inglese, gli indicatori relativi alle aree delle sostenibilità nei sistemi di breve termine. Chi, diciamo, più utilizzati sui sistemi di lungo termine sono quelli relativi ai temi ambientali. ma poche aziende utilizzano e, diciamo, scusate, utilizzano, è brutto, inseriscono, integrano il concetto dei temi della sostenibilità sia nei sistemi di breve che nei sistemi di lungo termine. Laddove invece abbiamo visto che in Italia le nostre aziende stanno evolvendo molto di più ad integrare la sostenibilità in entrambi i sistemi. Facendo un focus poi su questi indicatori, su questi cluster di indicatori che abbiamo, su cui stiamo mettendo l'attenzione, questo è l'evidenza delle attive sistemi di breve termine. Vediamo che la frequenza con cui sono presenti gli indicatori Human Capital, Health and Safety, Engagement e DNI non è altissima, quantomeno possiamo darne un giudizio in termini relativi, perché troviamo molto più rappresentate altre aree della sostenibilità. Temi ambientali, temi più strettamente legati allo stakeholder clienti e se guardiamo i sistemi di lungo termine il risponso è molto simile, nel senso che le percentuali con cui vengono utilizzate queste tipologie di metriche è piuttosto ridotta. Avvicinandoci ancora di più a casa nostra, stesso lavoro abbiamo provato a farlo sulle nostre aziende dell'indice Fuzzimib industriali, quindi sono 23 aziende. Questa è la fotografia che ne abbiamo ricavato, dove l'istogramma azzurro rappresenta la frequenza con cui troviamo questi indicatori nei sistemi di incentivazione di breve termine e abbiamo avuto la curiosità di vedere anche quale fosse mediamente il peso assegnato a queste categorie di indicatori. Quindi ovviamente la salute e sicurezza è un elemento presente da tempo nei sistemi di incentivazione al di là delle tematiche di sostenibilità, perché in molti casi sono indicatori, diciamo, strettamente connessi anche al business, ma poi se guardiamo i temi della D&I stanno crescendo, l'engagement e in generale i processi di gestione dell'human capital sono poco presenti e tendenzialmente con un peso, diciamo, non possiamo dire basso, perché, insomma, sappiamo che l'area della sostenibilità dentro ai sistemi incentivanti dei top manager hanno una loro, diciamo, dimensione che si aggira attorno al 20%, ci sono altri indicatori naturalmente che la fanno più da padrona, però, insomma, non sono tra quelli maggiormente enfatizzati tra gli obiettivi del top management. E se andiamo a fare lo stesso lavoro con riferimento ai sistemi di incentivazione di lungo termine, al netto delle tematiche della D&I, che invece trovano una buona rappresentatività, troviamo, diciamo, i temi in generale dello human capital un pochino meno pesati, tra virgolette, rispetto ad altre aree della sostenibilità. Ultima, e poi chiudo, ultima considerazione. Questa è una fotografia statica, quindi sono le politiche 20-22. Noi abbiamo visto in altri, insomma, in incontri precedenti che in realtà le nostre aziende italiane stanno evolvendo e stanno evolvendo anche con un buon passo su queste tematiche della sostenibilità. La D&I, per esempio, abbiamo visto che ha avuto un'evoluzione molto importante, anche soltanto confrontando le politiche 21 con quelle 22. Rimane certamente uno spazio di riflessione a mio modo di vedere se mettiamo insieme tutte le informazioni che abbiamo ripercorso insieme dall'importanza dello human capital, da quanto è rischioso non avere una politica di gestione del capitale umano efficace e poi questi ultimi numeri, ecco. E così io ho concluso.